Ansia, stress, insicurezza, tensione, paura del cambiamento, senso di colpa. E se potessi vivere davvero la vita che vuoi? Quando con Cristina abbiamo scelto di creare il metodo in cima, lo abbiamo fatto per un semplice motivo. Ci siamo accorti che i nostri clienti sono desiderosi di cambiamento. Quindi ci siamo detti come possiamo aiutarli a creare un vero cambiamento, a creare una struttura di convinzioni, una struttura comportamentale, una struttura in termini di atteggiamento mentale per poter realizzare i propri obiettivi. Noi non facciamo formazione, facciamo cambiamento. È un percorso evolutivo straordinario. Non è per tutti, è solo per chi ha voglia di conoscere meglio se stessi o di superare le proprie aspettative. È stato un metodo che mi fa uscire, mi dà il tasto per uscire da situazioni automatiche che sono quelle che ti inchiodano e che invece adesso supero. Spero insomma di riscoprire quella persona che ho lasciato tutti i miei anni fa. Abbiamo curato il corpo e la mente contemporaneamente, diciamo che sono stati coinvolti tutti i nostri sensi. Quando cucino mi devo dedicare all'essere umano nella sua interezza, cioè al piano fisico, al piano spirituale e al piano mentale o psichico, così detto. Professionisti, imprenditori, studenti, casalinghe, chi sceglie di partecipare ha già deciso di cambiare. Il metodo in cima è un sistema fatto di procedure ben definite che permette al partecipante di acquisire le strategie da mettere in atto in pratica quotidianamente per migliorare la qualità della sua vita. Al termine del percorso tutti i partecipanti sono entusiasti perché hanno acquisito delle strategie e sono pronti ad operare quotidianamente seguendo quelle procedure. Ed è questo che portano a casa i nostri partecipanti, un metodo replicabile in ogni area della propria vita che gli permetta di essere efficaci all'interno delle proprie relazioni. Libera la tua forza interiore, cambia te stesso e vivi la vita che vuoi. Libera la tua forza interiore, cambia te stesso e vivi la tua forza interiore.